In questo momento di emergenza carceri, ma anche di maggiore attenzione mediatica alla vita intramuraria, abbiamo chiesto all'Avvocato Ferraro qual è il suo impegno. Sono dei periodi difficili per il mondo carcere, percentuali di sovraffollamento molto alte, Crotone al quarto posto in Calabria nei 12 istituti penitenziari, con una percentuale di sovraffollamento del 130,30%, e poi le carenze di organico anche del personale della polizia penitenziaria. Come garante dei detenuti sto portando avanti dal 2018 come attività di volontariato istituzionale, quindi come autorità di garanzia e vigilanza per il mondo carcere, un impegno più che altro per la valorizzazione della persona umana e della dignità umana. In quest'ottica si spiega infatti sia lo scorso anno la realizzazione di una mostra artistica da parte dei detenuti della casa circondariale di Crotone, che hanno realizzato delle tele in memoria delle vittime del naufragio a seccato di Cutro e delle teche che sono state realizzate sempre da loro all'interno della casa circondariale, in legno e in plexiglass. E nel 13 settembre dello scorso anno questi doni sono stati consegnati al Santo Padre Francesco, all'udienza generale del 13 settembre, e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per il tramite del suo consigliere giuridico Stefano Erbani e anche al capo del Dipartimento per l'amministrazione peritenziaria Giovanni Russo. Sono delle opere che hanno consentito di realizzare una grande attenzione sociale e far esprimere il detenuto per ciò che è accaduto per quanto riguarda il naufragio delle vittime di seccato di Cutro. Il dato attuale delle persone che si sono tolte la vita in carcere è salito a 67 suicidi nel 2024, secondo il focus del Garante Nazionale aggiornato al 16 settembre. La nostra domanda allora è sul messaggio che il Garante Ferraro sente di lanciare nell'odierna giornata di sensibilizzazione. Il messaggio che mi sento di lanciare per la giornata che come Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali ogni garante territoriale organizza sul proprio territorio iniziative, mi sento di lanciare l'appello che è opportuno sempre dare maggiore voce ai detenuti, non lasciarli soli, non farli sentire abbandonati. Ed è importante anche perché il detenuto che si sente non seguito, soprattutto nell'immediatezza dell'ingresso in carcere, può compiere dei gesti in consulti. Infatti da quando sono Garante, purtroppo ho dovuto assistere a un suicidio di un giovane calabrese di 38 anni e in questi anni ci sono stati anche alcuni tentativi di suicidio, per fortuna che sono stati scongiurati. Quindi sicuramente tutta la drammaticità della restrizione della libertà personale è quello che ci dà maggiore vicinanza, soprattutto come Garanti. Quindi noi stiamo cercando di dare voce alle sofferenze, alle criticità, ma anche di dare speranza. Anche perché di recente, dopo tanti sforzi, è stata siglata anche con il Comune di Crotone e con la Casa Circondariale un protocollo per l'attuazione della Convenzione dei Lavori di Pubblica Utilità ex articolo 23 dell'ordinamento penitenziario. Quindi i detenuti possono lavorare in aree individuate dall'ente comunale, al verde pubblico, tornano la sera in cella, dopo aver mangiato però pranzato con i propri familiari. Quindi si cura la relazione affettiva anche con la famiglia. Si lavora e si apprende un'abilità. Bisogna ancora fare un grande sforzo però, perché altri enti, ma anche privati o per esempio cooperative, possono e devono investire sul reinserimento sociale di detenuti e di ex detenuti. Dare una speranza e quindi farli tornare in società all'insegna della legalità. Dall'agere ricere, dal versare in re illicita all'agere ricere. Con l'Avvocato Ferraro ci siamo infine chiesti come possono i Francescani secolari, già impegnati in progetti di solidarietà verso detenuti delle carceri di diverse città italiane, diventare sempre più incisivi nella direzione di un cambiamento di mentalità e di cura verso i ristretti. Francescani secolari stanno dando già un grande contributo nel mondo carcere, aiutando i cappellani per esempio, e intraprendendo delle iniziative di cui sono venuto a conoscenza, di collaborazione con gli istituti penitenziari, quindi distribuzione di vestiario, di beni legati all'uso dell'igiene personale, e possono secondo me continuare a promuovere, quindi dando un grande contributo anche sul cambio di mentalità, promuovendo appunto il loro operato sia nei singoli territori che a livello nazionale, per far conoscere sempre di più la situazione, quindi grave anche le fragilità, di persone disagiate, penso a detenuti ma anche ad ex detenuti. E poi so che intraprendono anche dei meritori corsi di formazione, proprio per la riabilitazione sociale delle persone che sono nelle carceri.